Intanto ti ringrazio. È sempre bello tornare a Parma, è una città stupenda, ho sempre giocato bene qui, quindi torno tutte le volte con molto piacere. Con Gianna siamo molto amici, sicuramente non sarà un match semplice a livello emotivo, però sappiamo che ogni tanto capita di giocare contro. Chiaramente gioco con un tennista che su questa superficie si trova a suo agio, quindi sarà una partita dura, ma come tutte del resto in questo tabellone che il livello è molto colpito. Fa sempre piacere che i nuovi volti del tennis italiano si facciano vedere. Io credo che tutto venga un po' dall'esplosione, prima di Marco, poi di Beretta, poi 10 italiani in primi cento. Abbiamo tutti aperto la strada al nuovo tennis italiano e i frutti continuano ad essere raccolti in questi mesi in cui tanti giovani si stanno affacciando ad altissimo livello. Grazie mille Salvatore e in bocca al lupo. Grazie a voi.